Anche nei campi Flegrei nasce l'Associazione Libera e siamo con Aldo Cimmino, referente dell'area Flegrei. Sì, l'Associazione Libera è un coordinamento di associazioni che ha dei riferimenti provinciali e territoriali. Abbiamo voluto anche in questo territorio far sì che con oggi con questo incontro nascesse un coordinamento Flegrei che quindi possa riunire i comuni di Bacoli, Quarto, Monte di Procida e Pozzuoli per questo percorso di giustizia e corresponsabilità anche su questo territorio dal punto di vista sociale, delle associazioni e delle scuole. Ci sono previste altre iniziative oltre a quelle che avete tenuto a Quarto, a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida? Sì, adesso siamo innanzitutto lavorando nelle scuole perché il nostro collegamento è sicuramente con le scuole in prima battuta e abbiamo l'intenzione di stimolare le scuole perché l'esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi possa nascere anche negli altri comuni che pure prevedono questa istituzione ma non l'hanno ancora attivata. I progetti nelle scuole e la partecipazione territoriale grazie alle associazioni che su questo territorio già lavorano costantemente.